Il Comelico si blinda per combattere il coronavirus dopo l'espandersi del focolaio a San Pietro, a Santo Stefano di Cadore e a Comelico Superiore. Su proposta dell'Ulsuno Dolomiti, i sindaci dei tre comuni stanno per emanare un'ordinanza che prevede misure restrittive che si aggiungono alle indicazioni nazionali e regionali già in vigore. Per 15 giorni agli abitanti del Comelico sarà fatto obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, eccezione fatta per i bambini e per chi svolge attività sportiva. Misure anche per locali e bar che dovranno chiudere tassativamente entro le 22. Intanto ancora in corso di ultimazione la refertazione dei 377 tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta domenica a Santo Stefano rimangono da refertare un centinaio di tamponi di soggetti non convocati, non afferenti all'età pediatrica e asintomatici. Prosegue l'attività di prevenzione dell'azienda sanitaria sul fronte dei tamponi drive-in per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola, ad oggi complessivamente si registrano 168 tamponi a Belluno e 118 a Feltre per un totale di 286 tamponi. 40 test invece sono stati eseguiti su bambini e ragazzi sintomatici al drive-in di Caprile dopo l'attivazione nella giornata di lunedì. Si ricorda inoltre che i drive-in di Caprile e Tai sono operativi a giorni alterni a Caprile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19 mentre a Tai di Cadore il martedì, il giovedì e il sabato sempre dalle 17 alle 19.